A da tu per tu oggi abbiamo Alessio Manica, consigliere provinciale del PD, grazie di essere con noi Manica. Grazie a voi. Abbiamo un sommario di un po' di argomenti, mandiamo con ordine del primo argomento, è un argomento che forse i cittadini capiscono nella loro immediatezza, cioè quando arrivano le bollette a casa dell'energia elettrica, ma non capiscono poi a monte cosa ci sta, la gestione dell'idroelettrico, si chiedono come mai il Trentino che produce energia green, anche sulle bollette c'è scritto la nostra energia è rinnovabile, e poi dicono a gas a noi cosa c'entra, poi leggono sui giornali e ascoltano alle radio e alla tv, la nostra in particolare, questo problema delle centrali idroelettriche. Lo avete affrontato, c'è un disegno di legge che il Presidente Fugati vuole accelerare per la proroga delle concessioni, i comuni che hanno fatto investimenti, hanno paura, i di riflesso alla Bolkestein, alla libera concorrenza, che arrivi qualcuno e gli porti via l'investimento. Qual è la situazione? Riesci a spiegare, fare chiarezza? Certamente sì Manica. Allora, il tema è complesso e nel tempo stesso centrale per il Trentino, è l'intera legislatura che noi ce ne stiamo occupando, sono arrivate in Consiglio due norme che hanno deciso le modalità di affido delle grandi e delle piccole concessioni. Già allora ci fu un dibattito molto acceso sulle modalità di affidamento, in quella fase la Giunta preferì di fatto sponsorizzare la gara anche per le grandi concessioni, noi la contestiamo in maniera molto forte, perché già allora secondo noi c'erano i segnali per capire come l'energia doveva rimanere saldamente in mano pubblica. Una gara già due anni fa rischia di dare il nostro oro bianco a player internazionali. Ora, io dico finalmente, la Giunta affronta con un altro taglio il tema delle grandi concessioni, quindi abbiamo iniziato in discussione in terza commissione questo disegno di legge urgente che ha l'obiettivo di prorogare di quattro anni e qualche mese le grandi concessioni a fronte di investimenti da parte dei gestori che tradotto vuol dire Dolomit Energia principalmente e Primiero Energia. che rappresentano circa un 80%, abbondante assieme. Lo scopo è quello di tenere in gestione pubblica, perché sono entrambi partecipati a maggioranza dal pubblico, la gestione delle grandi concessioni e questo è buono, soprattutto in relazione al panorama che sta mutando, perché è vero che questi ultimi due anni hanno spinto anche alcuni stati esteri a uscire dal gioco, come diceva lei, della Bolkestein, e affrontare l'acqua come merita di essere affrontata, non come un servizio come tutti gli altri, ma come un bene pubblico sul quale forse l'affidamento tramite gara non è sempre la migliore soluzione. In Portogallo hanno prorogato le concessioni. Ecco, le faccio questa domanda e lei ha fatto bene a sottolinearlo, c'era bisogno di creare tutto questo cancano, si poteva prorogare l'ufficio? Questo si domandano. No. Sono il Trentino l'ha fatto, però, questo o no? Allora, tutte le concessioni stanno andando a scadenza nell'arco alpino italiano, ovviamente, perché sono passati 30 anni delle iniziali concessioni. Il Trentino è l'unico che prova con una norma di proroga e qua c'è la nostra critica dall'opposizione, perché questa norma ha un altissimo rischio di impugnativa ed è facile anche capirlo, è difficile che lo Stato, che ha sempre difeso la concorrenza, accetti che solo il Trentino proroghi le concessioni. Quindi quello che noi temiamo è che questa norma, che negli obiettivi può essere condivisibile, si schianti in corte costituzione. E cosa fare allora? Noi abbiamo proposto di partire dallo Statuto, cioè di prendere, come si dice, il sacco dalla cima, non partire da una norma normale, ordinaria, ma partire dallo Statuto e cercare di modificare l'articolo 13 che governa il tema dell'energia. Questo ha bisogno di un po' più di tempo e ha soprattutto bisogno di un atteggiamento dialettico, pattizio con lo Stato. Comprendo che siamo in una fase complicata perché sta cambiando il governo, ma se riusciamo a incardinare nello Statuto, forse lo portiamo a casa. Sua norma ordinaria io mi tengo molti dubbi. Qualcuno dice che i trentini, gli italiani con l'Europa devono sempre fare i primi della classe, vediamo anche il caso banca e con la Germania che la crisi bancaria ha foraggiato le banche in crisi, cosa che non ha lasciato fare agli altri. Bisogna essere sempre i primi della classe, ogni tanto vale la pena nascondersi dietro la lavagna. Non lo può dire. No, no, lo dico volentieri. Io credo che bisogna essere i primi della classe quando questo significa percorrere strade originali, non quelli che si accodano invece al mainstream. Sulle gare abbiamo fatto questo. Sulle piccole concessioni, talmente ossessionati dalle questioni della Bolkestein e della libera concorrenza, siamo gli unici in Italia a aver deciso la messa in gara delle piccole concessioni. Io ritengo che potevamo cercare di percorrere strade diverse, i partenariati, i modelli pubblici di gestione. Quindi sì i primi della classe, ma quando si percorrono strade originarie. Abbiamo un minuto solo perché era più importante forse approfondire questo argomento, spiegherò noi, spiegando dai nostri ascoltatori. Casitea, quante ne mancano, quante sono sfitte, cosa fare? Voi avete agito e siete intervenuti su questo tema. Sì, noi abbiamo semplicemente fatto emergere i dati. E i dati sono spietati perché parlano di oltre 1200 appartamenti non assegnabili, sfitti. Con l'emergenza a casa che c'è e riguarda le classi meno abbienti ovviamente, quelle più in difficoltà, credo che non sia sinceramente quasi morale che il Trentino tenga tutto questo patrimonio sfitto. Ora la Giunta ha avuto quattro anni perché dobbiamo cominciare anche a dire questo, cioè la legislatura si sta concludendo. Non abbiamo visto dei veri investimenti, investimenti può dire soldi, vuol dire euro. Abbiamo visto solo bandiere sull'Itea, il famoso innalzamento degli anni di residenza piuttosto che la patente a punti degli inquilini. Ma rimane irrisolto il tema dell'investimento. È una scelta. Una strada in meno, casa in più. È una scelta che la Giunta non ha fatto ad oggi. Ecco, so che aveva altri argomenti, ma il tempo l'abbiamo usato per le centrali idroelettriche e penso che sia stato necessario, visto che è un tema che tocca tutti i cittadini e tutte le tasche dei cittadini. Noi ringraziamo Alessio Manica, grazie. Grazie a voi. Avremo altre occasioni per parlare poi di altri argomenti. Grazie anche da parte mia e ci rivediamo con un altro ospite. Grazie ancora.